Apprendere facile si può se rispetti la tua mente Dettati per tutti Questo dettato è adatto dall'inizio della terza in poi Fai un dettato al giorno con attenzione Vedrai che tutto cambierà Bastano dieci minuti al giorno Ricorda dieci minuti Ripeti con me Un dettato al giorno toglie gli errori di torno Dettato sei La spada magica Tutto il brano è diviso in frasi Appena ascoltata la frase metti in pausa e scrivila Quando sei pronto clicca poi su play per ascoltare la seconda frase E poi di nuovo in pausa e così via In questo modo potrai adattare la velocità a te La spada magica C'era una volta un giovane generoso Non era ricco Possedeva solo un cavallo Un giorno decise di andare per il mondo a cercare fortuna Montò a cavallo e partì Arrivò in un paese sconosciuto Dove tutti avevano la faccia triste E gli occhi rossi dal gran piangere Il giovane chiese perché fossero così tristi Un drago spaventoso con sette teste viveva nel fiume Ogni giorno rapiva una ragazza Oggi toccava alla figlia del re Sarò io a uccidere il drago Esclamò il giovane Il giovane arrivò con il cavallo al fiume Come il drago mise le sette teste fuori dall'acqua Il giovane con la spada magica Zac, 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 zac Tagliò le sette teste del drago Il re diede in esposa la principessa al giovane eroe Hai finito di scrivere? Rileggi il dettato E prova a verificare se hai fatto errori Usa anche il correttore di errori che ti ho dato Quando hai finito l'autocorrezione Clicca per verificare se tutto è ok Ecco il testo del dettato Che puoi confrontare con il tuo dettato Che puoi confrontare con il tuo dettato